Buongiorno, sono Bora Tartari, sono nata a Tirana e ho 32 anni, sono mamma di due bambini piccoli e da anni lavoro presso un'associazione e questo è stato uno dei motivi perché oggi mi candido, perché grazie a questa associazione ho conosciuto le realtà di Bergamo, quelle dell'immigrazione, quelle del sociale, del carcere, ma anche perché Bergamo ho visto la grande solidarietà verso gli altri e verso chi ha bisogno. Grazie alle mie esperienze vorrei portare in questa città la possibilità che sia una città ancora più aperta verso tutti e che le mure come a me mi hanno fatto vedere il loro calore, il grande cuore di tutti i cittadini bergamaschi danno la possibilità anche alle generazioni future di vivere una città con tante opportunità e ugualianza verso tutti. Grazie.